E' servita la prova migliore della stagione, una gara lucida e aggressiva che ha consentito ai tucani di abbattere la capolista fino ad allora in battuta. Grande successo per l'Atlantide Pallavolo Brescia che questa domenica sul parquet del San Filippo ha schiantato Ortona per 3-1 regalandosi una scossa in classifica dopo le recenti battute d'arresto. Attenti e concentrati i ragazzi di coach Zambonardi, bravi a non subire l'occasione mancata di chiudere in 3-7 e a sigillare la prestazione conquistando comunque tre punti. 25-19, 25-17, 24-26 e 25-22 i risultati dei parziali. Abbiamo fatto una partita importante, abbiamo battuto la capolista, la squadra imbattuta, riduce da 6 vittorie consecutive. Noi eravamo riduci invece da un periodo non felice, complice il Covid e tutte le problematiche psicologiche che questo ha portato e anche la difficoltà di allenarsi. Oggi abbiamo fatto una bella prestazione anche perché appunto per noi non era facile. Riduci da una serie di sconfitte, il nervosismo c'era, la voglia di riscatto era tanta e questo sono convinto ha portato a una bella prestazione, a un risultato importante contro una squadra di valore e di qualità. Diciamo che è stata una partita a due fasi secondo me, i primi due setting quindi abbiamo fatto bene ma l'altra squadra ci ha aiutato parecchio. Poi dal terzo è uscita fuori l'ortona che ci aspettavamo con buone battute e tante difese e le abbiamo fatto più fatica, più per demerito al nostro perché il finale di terzo set è stato un po' buttato via. Anche alcune fasi del terzo e penso alcuni contrattacchi gestiti male. Per fortuna abbiamo svoltato la nostra quarto set con qualche buona scelta e bene, bene perché sono tre punti fondamentali che ci rilanciano un pochettino in classifica dopo due partite molto brutte. Sì sono soddisfatto indipendentemente dalla prestazione personale che mi interessa relativamente, da come la squadra ha lavorato in questo periodo di difficoltà con due giocatori che ci mancavano e siamo riusciti a star lì con la testa e ad affrontare una grandissima squadra come ortona seppur rimaneggiata comunque una grandissima squadra al meglio. È una grandissima soddisfazione nel senso comunque sia la terza partita titolare, affrontare la prima del girone e vincere una partita comunque 3 a 1. La sua soddisfazione la dà comunque a livello personale e poi a livello del curriculum.